Signore e signori bentornati Bentornati su The Crew Calino Units Tantissime richieste signori Ora connessione permettendo Riusciremo in qualche modo a giocare E' arrivato qua con la Anche con la 500 Abarth spaccata Ma io direi di fare come sempre I nostri bellissimi test drive Direi di farla Con il GLC Cazzi macchina il GLC Ah ma c'è lo della polizia Grande Io direi di farci I primi cos'è Sapete che facciamo Facciamo il test drive con la Focus RS Adesso bisogna solo trovarla Focus 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 RS signori Andiamo a fare subito il test drive Andiamo nella mappa Solito Vediamo un attimo Se mi ricordo dov'è che si fa Oddio Ho un vuoto di memoria spaventoso Ah già da qua Allora Andiamo qui Viaggio rapido Andiamo lì Facciamo il test Di velocità massima Non mi ricordo manca come cazzo si mette il pen a mano Ok questo è il pen a mano Signori tre Signori due Signori uno Vieni via Prima Secondo signori Cento Turbo un po' basso vedo da là Nel quadrante lo vedete alla mia destra Anzi anche alla vostra 150 Oddio non sono più abituato a giocare Non vedo l'ora che arrivi il 2 signori 170 180 190 Signori siamo vicini di 200 Attenzione Attenzione 220 Non c'ho la freno mai a scaricare il tachimetro Grande sorpasso Appalla Appalla 230 240 Quinta Metti la sesta Mettimi la sesta Grande Quanta è la velocità massima 250 Un po' di più Cosa Mi hanno fermato un ragazzo 255 56 Attenzione 58 59 260 Stavano bene signori Stavano molto bene 61 62 Trovai 270 all'ora Ok adesso dopo aver scelto Frena 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 Per l'amor di dio Andiamo a cercare subito A focus For focus s 2010 Tuning signori Guardiamola bene da vicino Non male Ce la dovrei avere anche stream Vero? Perché se ce l'è stream Uso l'extreme Che A me ne abbiamo Un tipo di Pista Addirittura pista Focus focus Strano che non c'è extreme Focus s-extreme Grande Facciamo l'extreme Eh l'extreme signori è proprio bella 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 Non farò la pista In quanto È più difficile da Da usare Anche se vabbè È totalmente diverso la guida del Del pista in confronto a L'altro 3-2-1 via Prima Seconda 270 Ricordatevelo Spaventosa Spaventosa signore Giù nel vero senso Scaricato quasi il tachimetro Eeeh Via Fu giù il tachimetro Chiuso il tachimetro Signori Grande 3-40 Eeeh Bene Dopo averla distrutta Per l'ennesima volta Io direi di fare Assolutamente una garetta Non troppo veloce Mi sono stori Infrazioni Summit Prova Esplorazione Fazione Popopopop Fazione Popopop Extreme Dov'è l'extreme qua Non c'è un extreme Vedo un cazzo Con quello a fare lì Ah Chiudi ID pilota Chiudi 1000 ID Grande Eeeh Popopop Di solito Ne facevamo Con lì addirittura Drift Extreme 10 minuti Gioca Signori Singolo Anche perché ormai Come server Sono praticamente morti Questi qua Questi secondo me Deve essere abbastanza carino Giusto per capire un attimo Spero che sia da solo Infatti Ah beh con la Ferrari Già con l'F40 Balza tutto Signori Balza tutto Sì sì Ok Scusami Fermati Annulla Annullamelo C'è stato il piccolo aggiornamento Pochi minuti fa E devo dire che mi hanno migliorato Notevolmente La velocità di Quale cazzo andavo io La velocità di Corso delle stelle Di caricamento Di caricamento C'è anche il KTM da fare Assolutamente KTM però da cross Perché ho visto lì C'è una bellissima stradina Di campagna Tutta carina Signori Grande Box nuova Breve recensione Gusto di Daniel Ios 77 Spaventoso C'è roba grossa E qua signori Posteriore Anteriore Da sempre Sarà molto dura Vincere In quanto loro Vanno veramente Veramente Forte Buono il framerate È calato un Bello rispetto All'ultima volta Che ho giocato Non riusciamo a mantenere I 60 frame Devuti Appunto al gioco Che hanno migliorato Tantissimo la grafica Ma c'è Questo assassino Merdone Beh devo dire Si guida bene Abbiamo avuto anche La sfiga di avere Di fare una gara Sul bagnato Molto più Come guidabilità Molto più bello Rispetto a Info speed Anche se io Info speed Lo preferisco In quanto si può Driftare Miglior gioco Finora come livello Di guida Non tantissimo Reale Questo forse Quello che simula Di più La guida Attenzione Forza Horizon Siamo quarti Non va bene Non siamo qua Per vincere Ma siamo qua Per testare La macchina Piccolo squadamento Tende ad allargare Molto di coda Tende a Andare molto di coda Che non va bene Ma non va neanche male In quanto Rienciamo ad avere Una maggiore Manabilità Nell'uscita di curva Uscire un pelino Più forte Anche se l'anteriore Poi anche sul bagnato Cioè La sfiga delle sfiga Ha voluto questo Qua si frena Non stiamo giocando male Non ho ancora usato Il nostro In quanto in curva Non si usa Ok Ce l'ha stancato Bene sul misto Ok Piano Piano Maledetta Bentley Bella Bellissima Sta Bentley Qua C'è qualcuna A Torino Che gira E ora Di uscire forte E andarcene Bene Bene Mollato Freno Ottimi freni Freni veramente Molto molto potenti Ce l'abbiamo indietro Abbiamo un attimo Più di Forse di accelerazione Non di potenza Infatti lui Come vedete Mi è proprio dietro 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 E va molto più forte di me E tenderà a superarmi Sicuramente Ma io vado Io vado E baro L'altra cos'è Che macchina è quella lì Naston Martin Devo fare Oh donna Che sfiga Non volevo Farlo così Via 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 Devo cercare di recuperare Il più possibile Abbiamo dietro uno 140 metri 300 metri l'altro Ma Recupero abbastanza veloce Madonna Madonna Non so più giocare Z4 Signori Z4 Qua di solito Se eravamo Sarei prima Ho perso un po' Un po' la mano Riusciamo forte Riusciamo forte Bene E loro sono andati Signori Per me c'è la terza posizione Bellissima la grafica Dei Crew E molto molto bella Preferisco quella di Mannaggia Levati Quella di Forza Horizon Ma a livello di tuning Estetico Dei Crew E il top del top Un gioco molto divertente E rigiocabile Alla grandissima Spero che vi piace Questo ritorno agli albori Un gioco che mi ha lanciato Sul mondo videoludico Sullo youtube Videoludica Più che altro Piano figlio mio Un po' di rolli Amico mio Diferenza L'autobloccante Pari a zero Ok 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 Qua mi sembra Se perdi Non succede Niente Ma non vinci niente Non perdi niente Poca potenza Poca potenza Uuuuh Grande Micidiale Opla Opla Ok stiamo Stiamo recuperando Abbastanza in fretta Peccato che la La gara sia ormai finita Colonna sonora Top dei top Niente da dire Ottima curva Questa Ottima Ottima curva Fatta a palla Ottima anche questa Sto riprendendo la mano Peccato che l'ho ripresa Quando ormai era finita Va bene signori Direi che l'appuntamento di oggi Può finire qui Spero che il video vi sia piaciuto Grazie per il ritorno Su The Crew Grazie a voi L'ho fatto Nella parte 16 km Auto Ho fatto Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti A TAPOX Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.